Allora, siamo in macchina, la domanda che più mi viene posta al video in cui descrivo questa macchina ha un motore 1.3 cilindri, 125 cavalli, o nei video dedicato alla tecnica di downsizing la domanda che più mi viene chiesta è affidabile, quanto dura, non è che si rompe dopo 100.000 km non va bene per i viaggi autostradali, è troppo piccolo allora ho deciso di fare questo video per rispondere un po' a queste domande e sfruttare il fatto di avere una di queste macchine per farvi un aggiornamento costante ogni tagliando più o meno su come mi trovo, su come mi trovo, che problemi ha avuto, che costo dei tagliandi, eccetera eccetera quindi cominciamo con questo video al secondo tagliando che siamo a 43.000 km allora eccomi qua davanti al motore, 1.3 cilindri, 125 cavalli, come vi ho già sempre detto ha il turbo, è un motore sovralimentato, molto piccolo, 125 cavalli litro che non è eccessivo però insomma già comincia ad essere una potenza specifica abbastanza elevata e cinghia a bagno d'olio, particolarità di questo motore, quindi i tagliandi sono fondamentali ora il primo l'ho fatto a 26.000 km, perché la macchina prima era di mio padre la usava prettamente in città e ho cominciato ad usarla in un paio di mesi solo in un'autostrada ho fatto parecchi chilometri, ho fatto il primo a 26.000, questo perché la casa madre prescrive il primo tagliando proprio a 30.000 in realtà tutti i tagliandi con un intervallo di 30.000 km che secondo me sono del tutto eccessivi per una macchina di questo tipo, per un motore di questo tipo se vogliamo che duri sano nel tempo a maggior ragione questo che come vi ho già spiegato nel video dedicato, ha la cinghia a bagno d'olio quindi è importantissimo, oltre il turbo anche la cinghia deve essere ben lubrificata con olio di qualità anche il meccanico della concessione ufficiale Ford mi ha consigliato lui stesso di farli ogni 15.000 km ma concordo, secondo me non l'ha detto per far guarnare di più Ford alla sua ufficina assolutamente, io concordo che vadano fatte ogni 15.000 km, infatti quello dopo ho fatto il primo a 26.000 l'altro ho fatto ora e siamo a 43.000 km ora ho qua i fogli, bene o male la spesa è stata veramente contenuta sono abbastanza sorpreso, l'olio che va messo dentro questo motore è un specifico Ford Castrol Magnatec Professional 5V20, che è specifico per questo motore, ha una sigla particolare proprio per il fatto della cinghia, perché non può essere un olio aggressivo con i materiali in gomma della cinghia ovviamente, se no quella si distrugge e avete distrutto il motore l'olio ne mette circa 4 litri e mezzo poi ovviamente i classici cambio olio, filtri, filtro abitacolo interno, filtro dell'aria e varia mano d'opera, ha speso 150 euro per il primo tagliando con un piccolo sconto e per il secondo 200 euro perché è stato sostituito anche il liquido freni, quindi la vaschettina che vedete qui questo seguendo le indicazioni specifiche per i tagliandi Ford al prossimo tagliando sarà circa 60.000 km e prevederà anche il cambio delle tre candele non sarà una specie successiva perché sono tre candele, non sono quattro quindi penso una settantina o una settantina di euro in più ci tengo a specificare che il motore in questi mesi l'utilizzo soprattutto in autostrada e io non corro, una volta che mi metto in autostrada mi metto a una velocità fissa visto che devo fare tanti chilometri poi giornalmente il tratto casa lavoro comunque sono 18 km in autostrada il motore si comporta benissimo in sesta richiede quasi mai di scalare marcia per fare sorpassi sono veramente soddisfatto comunque anche per l'economia di utilizzo sia di tagliandi che di consumi fate conto che con un piede poco attento e velocità vicine al limite o anche oltre si percorrono tra i 16-17 km al litro volendo proprio esagerare se si sta attenti a 120 fissi si riescono a fare 18 tranquillamente se si va a 110-115 si vedono anche 20-21 km al litro in base anche al percorso se c'è tante salite o al traffico insomma è un motore economico nell'utilizzo e mi sto accorgendo comunque anche nella manutenzione finora non devo segnalare guasti o cose in particolare finora è andato tutto liscio ha una rumorosità particolare tipo un ticchettio, un fruscio strano ma ho visto che in realtà tutti i 1000 EcoBoost hanno questo rumore tutti e quindi diciamo che è una rumorosità caratteristica di questo motore si sente a bassa velocità o al minimo la batteria è ancora quella originale è ancora sana io ho fatto un video quest'estate su come controlla la batteria è ancora perfetta poi parliamo dei fari allora i proiettori non sono graffiati illuminano ovviamente ancora benissimo la macchina ha 3 anni quasi 3 anni, 2 anni e mezzo sono proiettori alogeni quindi niente di eccezionale nulla di led o xeno i proiettori principali però fanno bene il loro lavoro la luce bianca non si sono fulminate lampadine né all'anteriore e né al posteriore quindi ottimo anche da questo punto di vista le sospensioni sono ancora ok ovviamente ancora presto perché possano soffrire come chilometraggio però non fanno oscillazioni particolari la macchina non mi ha dato problemi particolari se fate il classico la classica prova di spingere lasciare che ritorna al suo posto diciamo ancora sono perfettamente rigide smorzano benissimo e passiamo al discorso gomme allora le gomme sono ancora quelle originali quindi hanno due anni e mezzo la macchina di agosto 2020 sono ancora quelle originali hanno 43.000 km quindi durata chilometrica ottima sono delle Michelin Prime Asi 4 misura 215-50-17 come vedete la spalla è parecchio alta e questo la rende una macchina abbastanza confortevole sulle asperità del terreno anzi molto confortevole ovviamente in curva si sente la spalla che si colica un po' non sono misure di gomme sportive assolutamente però è un giusto compromesso per una macchina di utilizzo quotidiano per non avere problemi per quanto riguarda l'usura ancora di battistrata un po' ce n'è come vedete da le tacchette di segnalazione però comunque le gomme ormai soffrono in curva o con aderenza nelle frenate perché la mescola si è indurita dopo tutti questi chilometri lo vedete anche da qui lateralmente però le cambierò nei prossimi mesi passando alla carrozzeria come vedete la vernice è ancora abbastanza lucida il colore è bellissimo questo colore Ford mi piace tantissimo ovviamente qualche graffio di gente molto disattenta quando parcheggia vicino ad altre macchine purtroppo nessun problema ai cristalli i fari neanche a quelli posteriori niente condensa o problemi di sorta dalla sospensione MacPherson qua vedete il braccio inferiore questo è il semiasse nessun rumore di braccietti barantirolli o boccole ancora tutto piuttosto rigido e in buone condizioni non ho avvertito rumorosità particolari i dischi e le pastiglie sono ancora in forma i dischi non hanno rigature particolari una volta mi è capitato di surriscaldarli scendendo velocemente da una strada di montagna un po' così per divertimento ma insomma si sono surriscaldati ma non si sono ovalizzati non ho riscontrato problematiche poi nell'utilizzo come vibrazioni e cose del genere il disco è ancora liscio ovviamente c'è uno scalino qui perché si sta naturando probabilmente forse al prossimo tagliando le pastiglie andranno cambiati i dischi forse più avanti comunque faccio tanta autostrada non uso tanto i freni passiamo all'interno all'interno com'è la macchina il volante è ancora perfettamente morbido liscio nessuna non si è diventato lucido quella cosa che odio devo dire io me ne sono preso abbastanza cura il volante in pelle lo lavo più o meno una volta ogni paio di mesi bene con un prodotto per interni specifico un pennello e all'interno non ci sono graffi particolari due cose sono successe in realtà vi devo raccontare un piccolo problema che si è verificato con la ventilazione un pomeriggio accendo la ventilazione la ventola parte perché si sente che andava a massimo ma non usciva aria alle bocchette questo perché probabilmente forse si era bloccato uno dei motorini che regolano i flussi fatto sta che non ho avuto il tempo di andare a portarle in casa madre però in un paio di giorni il problema è totalmente scomparso è da solo poi al tagliando successivo ho chiesto di dare una controllata ma non hanno riscontrato problemi erano in centralina particolari quindi diciamo che così come è successo è scomparso da solo e se ricapita ve lo farò sapere poi all'interno sono comparsi i primi rumorini questo purtroppo penso alle macchine moderne è abbastanza inevitabile la qualità costruttiva sì è buona però qualche rumorino che comincio a sentirlo qui dal montante sinistro è una piccola vibrazione soprattutto in autostrada quando l'asfalto è un po' più ruvido è qualche piccola vibrazione anche qui sul cruscotto ma più rara da sentire per il resto rumori forti non ce ne sono stati l'infotainment ogni tanto si impalla ma ogni tanto mi sarà capitato due volte nell'ultimo anno quindi niente trascendentale funziona bene con Apple CarPlay prima con Android funziona meglio con Apple CarPlay allora vi faccio vedere ora tramite una diagnosi professionale multimarca che dalla centrale non ci sono errori o problemi di sorta facciamo una scansione allora qui abbiamo il tablet lo accendiamo lo si collega via bluetooth al dispositivo collegato alla porta o biddy della macchina accendiamo il quadro ovviamente senza accendere il motore e aspettiamo facciamo una scansione clicchiamo su VIN dovrebbe riconoscerlo automaticamente ok ha riconosciuto il motore ovviamente Focus 1000 EcoBoost Turbo Charge e Direct Injection anno 2019 carburante e benzina e ha riconosciuto il VIN del telaio si andiamo ora possiamo fare una scansione rapida poi ci sono le funzioni speciali e il controllo dei vari moduli facciamo intanto una scansione rapida come si può vedere c'è un tornino comando motore ad esempio nessun problema verificato da qui poi se accendiamo la macchina possiamo anche vedere i dati in tempo reale se accende il motore eccetera eccetera ma penso se vi interessa su come funziona un aggeggio del genere facciamo un altro video in caso me lo fate sapere nei commenti questi sono tutti i dati che posso vedere in tempo reale per esempio ciclo di attuazione valvola spurgo filtro anticipo di accensione che sono molto importanti per vedere come lavora il turbo se il motore detona area condizionata anche il sensore di pressione insomma tutte informazioni specifiche di controllo motore e sistemi dell'auto inclusa per esempio la distanza totale percorso dal veicolo questo in centralina motore non in centralina quadro strumenti quindi con un aggeggio del genere volendo se la scalatura di chilometri una macchina è stata fatta male effettivamente da qui ve ne potete accorgere spero che il video vi sia interessato se vi interessa quindi aggiornamento costante ci rivediamo con lo stesso appuntamento alla 60.000 km quindi al prossimo tagliando più o meno e vi aggiornerò sulla situazione va bene? qualunque domanda non esitate a scrivermi nei commenti o sui social e in direct ciao ciao